Succede che ci troveremo in tantissime, moltissime associazioni, ma anche istituzioni, a partire da Clara, che è il gestore del servizio pubblico di giro ambientale, Parco del Delta del Po e diversi comuni che hanno dato il loro patrocinio, per pulire il lito di volano, la spiaggia, la pineta, tutto l'ambiente naturale circostante, anche a seguito di quello che è successo, come sappiamo tutti, dopo le mareggiate, in particolare quella di novembre. Sappiamo che ci sono tantissime associazioni sul territorio che desiderano aiutare, perché tantissime iniziative le facciamo durante l'anno e noi supportiamo questo tipo di raccolte volontarie, sempre in modo operativo, quindi con la fornitura dei sacchi, con la raccolta post-evento. In questo caso abbiamo voluto però renderci parte proattiva, quindi organizzare direttamente questa iniziativa, catalizzando tutte le associazioni che sapevamo essere interessate. Tutti possono vedere, perché quella è una giornata per l'ambiente, è l'ambiente di tutti e tutti dobbiamo prendercene cura. Questa deve essere la parola d'ordine del futuro, perché nessuno si può pensare, come ha detto prima la Presidente, cioè l'ossigeno che il parco ci dà non lo prende solo chi ha a cuore l'ambiente, lo prende anche quello che dice ma a me l'ambiente, invece l'ambiente è una parte fondamentale, deve essere la nostra stella polare in futuro, perché solo se sapremo essere meno stolti di quelli che siamo stati in passato, perché noi stiamo distruggendo l'ambiente nel quale viviamo, potremo cercare di rimediare i tanti danni. Abbiamo avuto dei danni perché l'acqua salata è entrata in habitat molto delicati e quindi l'effetto che hanno queste mareggiate su degli habitat che sono così delicati e la tutela di questi habitat è il nostro brand, diciamo che noi abbiamo nello statuto quello che dobbiamo fare, è chiaro che ha un effetto che si riscontra molto tempo dopo, nel tempo, quando tu perdi un habitat, non è che si fa terra bruciata, lo perdi gradualmente, forse non hai neanche la percezione immediata. Grazie a tutti.